Il suo vecchio amico Rednappa che invece andrà giù con il suo QPR Il pareggio tra West Bromwich Albion e Newcastle Kufran porta il Newcastle avanti ma poi il gol che invalida Eh sì, ecco qui, il gol attesissimo da tutti a casa Il gol che invalida è quello di Billy Jones Fraccamente è un gol che non ci saremmo mai aspettati di commentare Non si può accettare